si pronto chiamo per la volkswagen e le caratteristiche nuova vecchia la volkswagen su subito.it e le caratteristiche cioè vecchia nuova usata c'è qualcosa di rotto e anno ok sta zitto sta zitto sta zitto così mi parla con il mio cane perché ha perso le scarpe a casa di cristo spedisce a catania ma spedisce la macchina mi fa piacere ma sono nel secondo culo ma dai arrivederci e buonasera voglio ci ha rotto cazzo voglio quanto bello sottologio come che te la spedisce via posto nella macchina ma si pronto chiamo per i libri della disney della disney su subito.it si no mi dicevo quasi il titolo a te diciamo eh si no vado a andare a cagare eh non ricordo devo andare a cagare che cagare ma il libro è di un paperone e io paperino che ce ne ho uno da vendere tanto falo parlare assai e poi il film non mi interessa può spedire può spedire si no perché mi devo asciugare il culo mi devo asciugare il culo mi devo asciugare il culo eh non so che fa fare non ho carta igienica non mi non so che fare può spedire si sta dicendo ok paperone 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 è meglio fa più cagare quale fa più cagare quale fa più cagare forse il mio paperino vabbè spedisci tutti quant'è può spedire unipessi scappi cristo no ha chiuso andò andò a quello fallo parlare mi fate ridere salve chiamo per i sandali chiamo per i sandali chiamo per i sandali si mi dica che numero sono che numero sono 42 ma perché io zizzi chino culo te stai minchia mi faccio dare te stai minchia ma io bella stama si si pronto si chiamo per le ogan chiamo per le ogan no non ho scampione no 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 scusi mi sono no porco andò 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 chiamano qualcuno ci fai oh porco si si no 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 Ho sbagliato il nome delle scarpe Sto sbagliato Si senti sotto da io Anto, Anto, Anto Mi scusi